... Demo Martino, presidente della Proloco di Ciro Marina, nonché vicepresidente regionale. Siamo a Campora San Giovanni per il raduno delle Proloco Cosentine aderenti all'Unpli. Da Crotone anche qui a Campora San Giovanni. Certo, abbiamo risposto a questo invito del vicepresidente provinciale Antonio Isabella che è uno dei presidenti più attivi della Proloco Calabrese e quindi per noi è stato un onore rispondere a questo invito. Naturalmente noi stiamo partecipando con la Proloco di Ciro Marina in rappresentanza dell'Unpli Crotone dove stiamo facendo assaggiare anche i nostri due prodotti principi che sono la Sardella e il vino di Ciro. È un'occasione per ringraziare tutte le Proloco presenti perché dobbiamo fare spogliatoio tra di noi i Proloco ed è giusto che ogni tanto ci siano questi incontri a livello sia provinciale che anche regionale. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.